Siamo con il direttore della Coldiretti Abruzzo, Giulio Federici. Non possiamo non parlare dei danni che sono stati causati dal maltempo, il maltempo di questi ultimi giorni all'agricoltura. Ci può fare un po' il punto della situazione? Il problema dei danni è un problema che purtroppo con i cambiamenti climatici si sta affrontando sistematicamente e è diventato quasi una consuetudine. È chiaro che bisognerebbe inventarsi proprio l'uso di strumenti che esistono già, che sono quelli dei assicurativi. È chiaro che in questi territori occorre diffondere il più possibile la cultura dell'assicurazione. Da Montesilvano a Vasto, per circa un chilometro verso la zona interna, si sono verificati danni, danni importanti. Culture che tra l'altro in alcune forme avrebbero diritto ad essere assicurate e che non potranno nemmeno essere risarcite. Quindi ci sarà un problema di questo tipo. E oltre questo possiamo anche aggiungere che senz'altro il discorso non può essere risarcito al 100%. Perché? Perché i fondi che vengono messi a disposizione per queste calamità oggi veramente sono risorse esigue. A proposito di risorse, c'è poi un altro rischio? Quello di vedere meno i 30 milioni di euro destinati all'Abruzzo che l'Europa potrebbe richiedere e riprendersi? Allora, senz'altro il problema esiste, ma gridare sempre al lupo al lupo effettivamente crea un po' di preoccupazioni in questo senso. È ovvio, è un'emergenza, ci sono tante difficoltà. Questo assessorato che in qualche modo, io posso dire, è invecchiato. Effettivamente ci sono poche risorse umane e probabilmente queste poche risorse dovrebbero fare un bel tour de force per accelerare il più possibile intanto quelli che sono i procedimenti in corso. Poi c'è da aggiungere un'altra cosa. È chiaro, va pensata che non può essere una spesa tanto per spendere. C'è qualcuno che dice bandi a sportello. Beh, un attimo, per tutte quelle iniziative che magari possono essere acquisto di mezzi tecnici che non siano magari un qualcosa di consumo e basta probabilmente si può adottare, ma è sempre in consumo ridotto. Perché? Perché dobbiamo tenere presente che uno sviluppa integrato. Grazie a tutti.